Ciao ragazzi e ragazze, bentornati e bentornate nei video del venerdì, nello specifico in Stop Whining, Stop Reading. Allora, oggi vi parlo di un libro che non è casuale, cioè la cui scelta non è casuale, che ho letto in quest'estate, però all'inizio, cioè mi ero già quasi dimenticata perché ne ho letti veramente tanti, ma siccome la sua autrice sarà ospite di No Passanada dopo un corteggiamento di qualche mese, lo riporto anche qui oggi. Il libro è della dottoressa Antonella Viola, si chiama Il sesso è quasi tutto, l'evoluzione, diversità e medicina di genere. Il tema della medicina di genere è molto importante, specialmente, chiaramente per le donne, perché noi donne dovremmo renderci conto che in realtà la medicina di oggi, e non solo quella, è stata disegnata da uomini per gli uomini e quando è stata disegnata da uomini per le donne, forse non è stato tenuto conto un po' l'esperienza delle donne. Leggo, in biologia il sesso è nato come opportunità di adattamento a un ambiente che cambia in fretta, oggi è diventato la nostra gabbia perché viviamo in un mondo rigidamente binario, senza vedere le differenze che contano, perché esiste il sesso, che differenza c'è fra sesso e genere? Maschi e femmine sono diversi e in cosa? Vi stiamo curando nel modo giusto? Spoiler, no. La cosa interessante di questo libro è che non si perde in divagazioni ideologiche, né diventa troppo scientifico, ma è un libro che possono capire tutti, tra l'altro è molto piccolo, quindi non risulta neanche noioso. Ho scoperto questo libro quasi per caso, ma devo dire che è stata una delle migliori letture di quest'anno. La dottoressa Viola sarà nostra ospite di No Passanada il 9 novembre dalle 18.30 in live, di questo io sono veramente, veramente felicissima. Parleremo di cosa? Beh, parleremo di questo, della salute mentale, dell'impatto di questa parte della salute sulla salute mentale. Un aspetto molto interessante che ho trovato in questo libro è quando per esempio parla dell'esistenza di generi che non sono strettamente maschili o femminili alla nascita, non solo tra gli esseri umani, ma anche negli animali, che spesso è un argomento che usa chi forse non sa le anche così tante cose, o non è aperto a capire che forse ha solamente dei preconcetti. Il libro è veramente spettacolare, ve lo consiglio. Lo consiglio se avete voglia di, come tutti i libri di cui vi parlo, praticamente tutti, di distruggere le vostre certezze e avete la mente abbastanza aperta per accoglierlo. Se poi vi è piaciuto, per il resto vi aspetto su No Passanada, 9 novembre dalle 18.30. Ci vediamo il prossimo venerdì. Stop whining!